Musica Oggi sono su Monte Connero e sono venuta a raccogliere i frutti del corbezzolo, anche chiamato ciliegio marino. Possiamo fare con i frutti che arrivano a maturazione proprio in questo periodo un ottimo miele balsamico ed è ricco il corbezzolo di proprietà officinali, le troviamo sia sulle foglie che sulle radici, sui fiori e sui frutti. Con le foglie invece possiamo fare un decotto per disinfettare le vie urinarie e per curare la cistite. Il corbezzolo in passato era considerata una delle erbe cacciagliavoli, insieme ad esempio all'artemisia, al rosmarino, alla lavanda e al basilico. Queste erbe si mettevano sull'uscio di casa o sulla culla dei nonati per allontanare gli spiriti maligni. Era considerata una pianta sacra perché? Perché contemporaneamente esistono sia i fiori che i frutti e quindi per gli antichi rappresentava il corbezzolo il compimento del ciclo della natura e per questo era considerata una pianta sacra, importante e da tenere vicino a casa. Non solo oggi lo raccolgo per farlo vedere ai miei bambini ma perché so che sono golosissimi e è un frutto molto dolce ma allo stesso tempo bisogna stare attenti perché ha un forte potere elastativo.